questa sarà la mia offerta politica, io direi che è un ottimo passo di partenza, è un ottimo punto di inizio, la strada è lunga perché io penso che la legislatura durerà fino al suo termine naturale, da qui a quel momento purtroppo l'Europa sarà la mia migliore alleata nella campagna elettorale, dico purtroppo perché il prezzo di questa crisi sarà scaricato sui cittadini italiani e lascio il microfono e la parola a Monica Lozzi. Grazie Gianluigi, quando diciamo ripartiamo dall'Italia significa che dobbiamo ripartire dai territori perché ciò che viene definito crisi a livello nazionale e a livello regionale noi nei territori gli diamo un volto, un nome e un cognome. Io sono presidente del settimo municipio, il più popoloso di Roma da quattro anni ma ho svolto anche tre anni di opposizione, quindi ho dato un volto e un nome e un cognome a questa crisi incontrando persone che soffrono, che hanno serie difficoltà e a cui noi amministratori locali difficilmente riusciamo a dare delle risposte perché l'Italia ad oggi è incastrata sotto normative europee che impediscono l'agibilità soprattutto a noi che dobbiamo risolvere i problemi e i cittadini i problemi reali. Io sono entrata nel Movimento 5 Stelle perché ho creduto in un modo diverso di fare politica, una politica che doveva mettere al centro l'interesse del cittadino, che lo doveva coinvolgere, che lo doveva rendere parte attiva dell'azione politica di questa Italia. Mi ritrovo oggi in un movimento che ha reso i cittadini dei fan. Oggi non c'è più un seguace del movimento che abbia la capacità di poter criticare in modo positivo perché di solito viene annullato, cancellato o espulso. E non solo, mi sono ritrovata in un movimento verticistico senza spazi di condivisione democratica dove poter definire insieme coi territori le linee politiche da poter declinare dai territori al nazionale. Ho provato su Roma in ogni modo a chiedere questo spazio soprattutto perché Roma Capitale penso che meriti un'attenzione da parte di un movimento politico che voleva essere il primo partito dell'Italia, anche perché la Capitale, in base a come viene governata, è lo specchietto di tornasole nei confronti del resto del mondo. Non c'è stato. La mia amministrazione, il settimo municipio, ha invece messo in pratica tutti quei principi. Noi ad oggi, a quattro anni, dalle elezioni abbiamo portato a casa il 90% del nostro programma elettorale e lo abbiamo fatto nel confronto con i territori, confrontandoci giorno dopo giorno con la cittadinanza, anche quando la trovavamo arrabbiata, ci abbiamo messo la faccia e quando io parlo al plurale perché non sono una politica che dice io, io, io. Sono stata abituata a fare politica di squadra. Una squadra è quella che vince sui territori. Quando si lavora insieme ai cittadini, ai territori e si porta avanti un programma. L'abusivismo di Casa Monica è una delle battaglie che abbiamo vinto e ad oggi, se andiamo a sentire in tutta Italia, è stata Virginia Raggi. Virginia, sì, ha avuto la sua parte nella parte finale quando ha messo a disposizione del municipio 600 uomini della polizia locale. Ma noi abbiamo lavorato per un anno e mezzo a fianco del vice prefetto che seguiva il tavolo municipale, insieme ai nostri uffici. Abbiamo tirato fuori dal cassetto atti del 1985, ma non perché volevamo buttare giù le casette di Casa Monica, perché volevamo lavorare sul ripristino della legalità a prescindere di chi fossero gli abusi. Ma quelli erano i più antichi e quindi, armatoci tutti di coraggio, abbiamo affrontato e siamo riusciti a portare a casa quel risultato. Ma ne abbiamo portati a casa tantissimi altri. È solo che nel movimento nessuno riconosce più il valore delle persone che stanno all'interno. Nessuno pensa che un territorio possa dare delle proposte concrete. Si scelgono le persone prima dei temi, non si ha una visione della città e quindi ho deciso oggi di uscire perché noi invece una visione di città ce l'abbiamo. Noi sappiamo come ripartire per una Roma migliore, perché lo abbiamo fatto. E se Roma è incastrata da un punto di vista burocratico e amministrativo, perché noi siamo comunque riusciti a portare a casa il 90% del nostro programma? Perché c'è un meccanismo. Basta riorganizzare questa città, basta portare a casa quel decentramento amministrativo di cui tanti parlano da sempre e mai lo fanno. Bisogna sedersi a livello nazionale e dialogare col governo per la riforma di Roma Capitale. se vogliamo una capitale all'altezza del mondo, non dell'Europa, visto che ad oggi l'Unione Europea non ci rappresenta. Abbiamo questa proposta e nessuno l'ha voluta ascoltare, invece parlando con Gianluigi sta credendo in noi. E quindi noi ripartiamo per l'Italia dai territori, ripartiamo da Roma, ma la lista civica che si presenterà, perché non correremo con Italia Exit, semplicemente perché è un marchio estremamente connotato con un tema nazionale. Quando parli alla gente nei territori vuole sentire i temi che li rappresentano, quindi la mobilità, le scuole, le strade. Saranno temi banali ma sono i temi della nostra quotidianità. Quindi correremo con una lista civica, con un contenitore che non sarà solo per Roma. Lo metteremo a disposizione di tutti quei comuni che avranno voglia di fare una politica territoriale veramente per i cittadini. Senza interessi non ci saranno apparentamenti né con le destre né con le sinistre, ma non perché siamo contro i partiti politici, perché per esperienza personale Roma e anche altri comuni, anche più importanti, vengono utilizzati dai politici che sono i reggimentati nei partiti come trampolini di lancio. Oppure la capitale è sempre stata utilizzata, ad esempio, come un campo di battaglia per guerre che vengono combattute ad altri livelli. E a me non sta più bene. La mia città merita di più e merita di meglio. E quindi quello che noi vorremmo è cercare il sostegno di tutte quelle persone che dalla società hanno combattuto per questa città, hanno lavorato per questa città, semplicemente perché è casa loro. E quindi la nostra politica sarà questa per Roma e sarà questa per ogni comune che vorrà seguirci. Grazie. Le autodefinizioni di solito non portano mai bene. Però sicuramente abbiamo la condivisione di un progetto politico che lui ha realizzato col tempo e quindi va da sé che la medaglia d'oro lui l'ha guadagnata. Io adesso voglio gareggiare, quindi se mettersi sulla scia di uno che ha preso la medaglia d'oro porta bene e lo faccio eccome. Grazie. 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 il debito pubblico. Molto ovviamente gli Stati Uniti d'America con una firma, quindi con una scelta politica, deciderà di, questo perché è stato anche annunciato dal segretario generale del Tesoro, di cancellare i prestiti che hanno fatto alle piccole imprese con una firma. Quindi ripeto il concetto di fondo oggi è seguire chi ha banche centrali, stampare illimitatamente come stanno facendo tutti, non c'è un problema sui mercati monetari globali perché stanno stampando tutti e quindi l'inflazione è l'ultimo dei problemi, anzi magari si muovesse un po' di inflazione, è un problema che non si sta muovendo e quindi quella è la soluzione che adotterei, ma tu mi inviti a fare un ragionamento su un impianto di cui oggi lo Stato è assolutamente privo e non lo potrei fare nemmeno vincendo le elezioni domani per paradosso perché i processi politici non si costruiscono dall'oggi al domani, è come quando qualcuno provocatoriamente mi domanda quindi cosa fai e come si fa ad uscire dall'euro, gli ho detto beh è il più grande dibattito che sta muovendo i macroeconomisti seri, quelli che non vengono dalla scuola di Chicago e che ragionano ancora con la loro testa. Grazie. 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 L'idea ovviamente è un'idea di tipo politico, come primo segnale devi uscire dall'Unione, europea, ma ti dico anche che sono convinto che è il processo dell'Unione europea che andrà a consunzione e quindi capiranno per una spinta dal basso perché la variabile che l'Unione europea e i burocrati non hanno mai considerato è la ribellione del popolo. Devi vincere ovviamente le elezioni, ti devi impostare come prima forza politica. Nel momento in cui un partito come l'Europa per l'Italia o l'Italexit diventasse la prima forza politica, uscendo quindi dall'equivoco di altre forze che hanno usato le suggestioni per solleticare, ma non lo hanno mai messo come postulato e come tesi politica. Io invece lo faccio, noi lo facciamo, noi crediamo fermamente nell'uscita dall'Unione europea e conseguentemente dall'Eurozona. Quindi lo diciamo, quindi vorrebbe dire che quel tipo di forza politica non può che non cominciare una dialettica con l'Europa. E l'Unione europea non può non prendere in considerazione che nell'interno dell'Unione europea vi sono partiti che stanno diventando principali forze spinte da un processo democratico che parte dal basso. Allora a quel punto il tema non è squisitamente tecnico. Io lo so che la caratura dell'Unione europea, è una finta caratura perché è placata a oro, nasce dall'alto. E pensano che dall'alto si possano guidare tutti i processi sociali, ma secondo me gli va male. La scommessa che gioco e che vogliamo giocare è una scommessa di tipo politico, ma lo scrivo non solo con la prima lettera maiuscola, interamente con i caratteri maiuscoli. Perché la sfida necessaria all'Unione europea è una sfida politica e l'Europa non vuole ragionare politicamente. Anche oggi ci ricaccia sempre dentro dei meccanismi di tipo finanziario. E' inutile che stiamo a prenderci in giro. Oggi si definisce portata storica un qualcosa che se noi lo offrissimo come panel di soluzioni a un paese che ha una banca centrale, ci direbbero ma che state a fare? Perché se tu hai una potenza come una banca centrale, stampi, stampi e monetizzi il debito. Ma perché sei in un momento di una crisi che è globale, una crisi che è drammatica. Ma andate a prendere i libri e provate a vedere se trovate un meno 12%, ma non lo trovate. Quando saremo dentro quel meno 12%, anche all'interno dei palazzi del governo, finalmente apriranno gli occhi. Ma non avendo impostato la partita, sarà sempre una rincorsa. Ora io non voglio fare, lo dicevo ieri in un video, l'ho detto anche in televisione, non voglio riprendere il mito di Lauco Conte. Però se mi vedo il cavallo di Troia, oggi come oggi, non faccio i salti di gioia, provo ad ascoltare quello che mi dicevo, guardate che veramente è Timeo Danaos e Donna Ferentes, cioè temo Bruxelles e quelli che mi portano dei doni, perché questi sono dei doni, non è la soluzione, non è la soluzione politica. E quindi per forza di cose cadendo e indebolendosi il potere tecnocratico dell'Unione Europea si torna a ragionare su come i paesi possano riappropriarsi della leva monetaria e della politica monetaria. Perché noi abbiamo la moneta ma non abbiamo la politica monetaria. Sono due cose che sono scollate e che maledettamente in Europa non vedono. Quando l'Europa è andata in difficoltà, state attenti, toccò al governatore della Banca Centrale Europea giocare un ruolo politico. Tanto che tutti i politici dei paesi membri dell'Eurozona, non tutti per la verità, ma molti, hanno detto grazie a Mario Draghi che ha salvato l'Europa. Cioè grazie ad un banchiere centrale che ha salvato un disegno che dovrebbe essere politico ma che essendo privo di intelaiatura politica si scioglie, si squaglia. E quindi toccava a un banchiere centrale, tra l'altro banchiere centrale senza avere una vera banca centrale, salvare con il watercredit X e con la quantità di salvare o tentare di salvare l'Europa. Ma anche lì non ha scaricato a terra. Perché se domandate realmente la mole di denaro che è stata iniettata sui mercati, quanto è finita nell'economia reale, è scarsa, è stata scarsa. Perché talvolta devi avere anche il coraggio che quando tu pensi di aprire i rubinetti, devi vedere che il lavabo non si è ostruito. E noi avevamo il lavabo ostruito. Perché quando gli imprenditori sono già nell'elenchi dei cattivi, perché erano indietro con le rate delle banche, con i prestiti, con le tasse e altro, tu sei nell'elenco dei cattivi. E quindi non ti arrivano i soldi. Perché oggi si svolge tutto sui terminali. Se il terminale ti dice tu non puoi ricevere i soldi, tu hai voglia che Mario Draghi fa il quantitative. Tu quei soldi non li pigli. E magari sei nella situazione paradossale che muori avendo in pancia dei crediti che ti è impossibile riscuotere. Sono crediti o dello Stato, che non va neanche a compensazione, o anche crediti che vanti nei confronti di privati, ma che siccome il sistema della giustizia civile fa acqua, tu non riesci a ottenere quello che dovresti ottenere. Guardate che ci sono un sacco di imprenditori che saltano con in pancia crediti che li terrebbero in vita. È paradossale questa situazione. E a proposito dei tanti soldi che si stanzia di scostamenti di bilancio, provate a pensare che cosa accade in questo paese quando tu fai meno 12% e gli operatori economici non riusciranno più a stare dietro al rapporto con le banche. Ci sarà il problema delle banche, perché le banche che oggi hanno dovuto smaltire l'NPL sono punte a capo un'altra volta perché si ritrovano dentro una crisi del meno 12% con gente che non riuscirà a rientrare dai prestiti. E quindi perché le banche non danno soldi? perché lo sanno benissimo che con una situazione del genere hanno già delle sofferenze in fieri. E allora dovranno, l'Europa, i governi, non lo so chi, dovranno riparare al malanno bancario. Perché a fine anno, ve lo dico già, il problema d'attualità saranno le banche. Le banche che si ritroveranno con una valanga di nuovi NPL. E allora a quel punto cosa fai? Chi salvi? I posti di lavoro? Le aziende? O le banche? Ecco perché in America e chi ha le banche centrali stampa illimitatamente. Perché hai troppi fronti aperti. E non puoi pensare di dare tanta moneta. tanta è diverso da illimitato. E oggi dentro l'Unione Europea nessuno ragiona in termini di illimitatezza. E dovendo ragionare in termini di illimitatezza dovresti ragionare in monetizzazione del debito. Così come lo crei, lo cancelli. Perché guardate che qua viene veramente giù tutto. E aggiungo, e chiudo, il Paese non è abituato a subire uno stress sociale. Perché fin tanto che sono pochi quelli disperati è un conto. Ma quando poi sarà una somma di disperazione, cosa fanno? Pensano di trincerarsi dentro il lockdown del virus? Quando uno è disperato è disperato e non conosce né lockdown né altri, cosa fanno? Schiereranno l'esercito contro i disoccupati? Schiereranno l'esercito contro chi scenderà in piazza perché tanto non ha più nulla da perdere? Eh auguri allora alla Lamorgese. Se pensano di schierare l'esercito per fermare i disoccupati inizino bene a fare i conti. Perché a quel punto le immagini faranno il giro del mondo. Perché evidentemente il movimento di sicuro non ha la struttura politica, la tesi politica. Ha accarezzato una suggestione, ma non ha studiato. Non ha una tesi politica il movimento. Andava anche bene la suggestione. Io ero conscio che un movimento giovane non potesse essere strutturato da un punto di vista di tesi. Perché è un processo un po' difficile, un po' elaborato. Ma sarebbe bastato anche tenere il punto sulla suggestione. Io lo ripeto e lo dico sempre, io sarei stato buttato fuori anche con il governo gialloverde. Perché per me Tria non aveva una visione politica tanto diversa nella sua matrice da quella che Gualtieri esaspera. Però sarei stato sbattuto fuori in ugual modo. Perché anche Tria sarebbe stato dentro la stessa politica comandata da Bruxelles. E io invece speravo e avrei sperato di avere forte di un 33 per cento di costruire una diga. Io di sottoporre a stress l'Unione Europea. Quella era l'azione politica che avrebbe dovuto fare un Movimento 5 Stelle forte del 33 per cento e una Lega che era dentro il centrodestra la prima forza. Ora ognuno ha dei pezzi. Perché anche dentro il Movimento c'è ancora qualcuno che ragiona come ragiono io. Non ha la forza di uscire. Ma sai, la forza e il coraggio non è che te li possono prestare in un negozio specializzato. O ce l'hai o non ce l'hai, no? E anche nella Lega ci sono persone anche di livello che ragionano come ragionavano quando erano professori universitari. Quindi lo sanno benissimo quello che accade. E poi devi fare la tua scelta di azione pratica. Cioè prestare o piegare quello che sai. Se lo presti all'azione politica diventa la tua tesi di governo. Se ti pieghi vuol dire che hai capito e hai messo a fuoco il tema di difficoltà ma hai deciso di perseguire altre visioni politiche. Quindi eratria al posto di un altro ministro. Io per esempio per provocazione dissi se il governo con il PD dovesse avere un ministro alla Stefano Fassina, un ministro dell'economia e finanza, alla Stefano Fassina, alla Emiliano Brancaccio, cioè per far capire la fisionomia del... l'avrei votato. Perché non è un problema di tizio Caio Sempronio, è un problema di quale tesi politica metti come addensante del tuo governo. Se mi vai a prendere da Bruxelles, Gualtieri, che ti ha scritto quelle norme lì, è chiaro che il tuo addensante politico è l'addensante che ti hanno dato a Bruxelles e quindi stai dentro la stessa architettura dell'Unione Europea. Ma è un'architettura che, per dirla con Stiglitz, Krugman e tanti altri, è un'architettura che ha distribuito male il peso e quindi quando distribuisci male il peso cade. Quindi l'Unione Europea è destinata a cadere. In quale tempo? Non lo so, ma è destinata a cadere perché hanno distribuito male il peso. In più ci sarà una società che prenderà spallate queste colonne che già sono stressate perché hanno un carico mal distribuito. In più c'è una forza che viene dalla società, cade. L'Unione Europea cade. Il Movimento 5 Stelle, senza sapere che cosa voglia dire, è diventato neoliberista. Se la scelta della Lega dovesse confermare la scelta di Mario Draghi come suggestione attraente, non c'è nessun altro campione di neoliberismo che Mario Draghi. Adesso fa finta di recuperare le sue vecchie elezioni di Federico Caffè. Però lasciasse in pace la boraniva di Federico Caffè e si riveli per quello che è, cioè un neoliberista. La crisi? La crisi? Sempre lo stesso disegno dell'Unione Europea ha creato una gabbia dall'alto e dal basso. dall'alto con la finanza, dal basso con i flussi migratori. I flussi migratori sono funzionali ai disegni neoliberisti perché di fatto cosa stai facendo? In un momento in cui i diritti si rivendicano con grande fatica hai una disponibilità di manodopera fantasma, precaria, pronta a essere sfruttata. Chi vive il dramma delle traversate in confronto se gli chiedi di lavorare a nero nei campi o nell'edilizia è una passeggiata. Quando guardi la morte in faccia nella traversata sei ben strutturato per affrontare qualsiasi situazione del lavoro in nero. Però noi non possiamo abbassare sempre l'asticella dei diritti perché qualcuno fa il furbo e ti dà manodopera pronta ad essere sfruttata. E qui c'è la responsabilità ancora una volta di un'Europa che non ha saputo usare tutti i mezzi di cui la tecnologia dispone perché qui abbiamo mezzi che ti permettono di monitorare qualsiasi passaggio. Allora se non sai fermare oggi con la disponibilità di mezzi i flussi migratori vuol dire che non li vuoi fermare. Vuol dire che a te sta bene creare in Europa attraverso le porte del Mediterraneo una situazione di continuo preoccupazione, di continuo allarme sociale. Questo allarme sociale ovviamente fa il gioco esattamente dell'Unione Europea perché non ha voluto scientemente affrontare, non dico risolvere, affrontare la situazione. Ti danno un po' di soldi come mancia e ti dicono io ti do i soldi adesso ti gestisci il problema. Ma ecco dove la visione stupida, miope dell'Europa, dell'Unione Europea. Ti danno i soldi, ti danno delle mance per gestire i campi. Ma il problema dell'immigrazione non è il problema della prima accoglienza ma è dell'integrazione. Guardate che in Veneto, in Lombardia, Brescia hanno avuto delle ondate migratorie importanti. Ma dentro quelle ondate migratorie importanti quando l'economia girava anche lo straniero non era straniero. Tu trovi un sacco di gente proveniente, di cittadini, di persone provenienti dall'Africa nera che lavorano nel distretto dell'acciaieria, nel Bresciano, dei Tondini per esempio, che parlano Bresciano. Ma perché? Perché comunque si sono integrati. Perché c'era un lavoro, un lavoro che non era in nero, era un lavoro retribuito, avevi un contratto vero e avevi anche una struttura sociale che ti dava la casa, ti dava le scuole e non c'era conflittualità per accaparrarsi un posto nelle case popolari piuttosto che un posto negli asili e nelle scuole. È lì che devi vincere. È inutile che mi dai quattro spicci per affrontare la gestione della prima accoglienza. Perché te sai che c'è? Io prendo tutte queste persone che l'Europa non è in grado di, di gestire e le metto sul confine con l'Austria. E dico adesso fate quello, andate dove volete voi. E vediamo se l'Europa lo capisce o non lo capisce. E vediamo se poi il problema è soltanto dell'Italia o dei paesi del Mediterraneo. Visto che l'Europa non conosce nessun altro linguaggio tranne a brigante, brigante e mezzo, bene, è arrivato il tempo di fare a brigante, brigante e mezzo e brigante a tre quarti. E vediamo se la capiscono. Ecco perché alla fine non c'è nessun'altra soluzione se non quella di andarcene. Perché altrimenti l'inganno, anzi il più grande inganno culturale politico attualmente in corso, si protrae. E io direi che è ora di finito.